È successo dopo la fine del programma. Temptation Island, rivelazione shock sulla coppia che si è separata nel reality show di Mediaset. Proprio così, dopo l'ultimo falò, come abbiamo già raccontato, i due hanno deciso di allontanarsi per via di un tradimento avvenuto con un tentatore e di fronte agli occhi di tutti, compresi quelli del ragazzo. Parliamo chiaramente di Christian e Ludovica. La ragazza, lo abbiamo già raccontato qui, si è fatta una doccia molto intensa e calda con un tentatore e la cosa chiaramente ha segnato la fine del loro rapporto, almeno di fronte alle telecamere. La cosa però sarebbe assai diversa a casa e questo sarebbe una vera e propria violazione di regolamento di un'altra coppia di Temptation Island. Ognuno chiaramente può far ciò che vuole, ma sembra che i contratti parlino chiaro, nessuna coppia deve farsi vedere insieme fino alla fine della messa in onda del programma. Il motivo è semplice, niente spoiler. Eppure, da quello che riporta un utente a Dejanira Marzano, la coppia si starebbe mostrando in giro per le strade della città, vasto, e soprattutto senza farsi troppi problemi. Come dicevamo, secondo il regolamento del programma, le coppie non possono fare spoiler di nessun tipo, belli e brutti, e farsi vedere in giro insieme è un problema, proprio come in questo caso. L'utente a Dejanira Marzano scrive, ciao Deja, ieri ero a Vasto, città di Ludovica e Christian di Temptation Island, ed erano tranquilli e spensierati insieme in un bar, ha scritto una persona. E poi ha aggiunto, ma non dovrebbero nascondersi fino alla fine del programma. In teoria è, come dice l'utente, certo che è anche complicato stare un mese nascosti, in particolare se ci sono eventi importanti a cui devono partecipare. Però un bar si potrebbe evitare in effetti. Sembrerebbe poi che le registrazioni sarebbe state di soli dieci giorni e non di ventuno come si era programmato. La cosa sarebbe stata giustificata con un semplice, tutte le coppie hanno interrotto il loro percorso molto prima rispetto ai tempi canonici. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.